La situazione familiare viene affrontata nel questionario autobiografico e poi naturalmente alcune domande ci sono anche col colloquio con la psicologa. Perché l'area familiare? Perché è fondamentale per il nostro sviluppo, per quello che ci portiamo dietro. Quindi tutte le dinamiche familiari sono importanti ed è importante andare preparati su quest'area perché le domande riguardo queste aree sono fondamentali. Quindi quali sono? Queste sono le aree del questionario. C'è l'area che abbiamo fatto l'altra volta ovvero l'area lavorativa, poi c'è l'area familiare che affrontiamo stasera, l'area formativa quindi domande riguardo il percorso scolastico, l'area sportiva e l'area di gruppo quindi la socialità. Allora l'area familiare guardano domande relative alla composizione della propria famiglia quindi come è composta la tua famiglia per capire un po' se siete figli unici, se avete sorelle, se avete fratelli perché questo è fondamentale naturalmente per la crescita di una persona. Vi chiedono anche degli eventi significativi della storia familiare e anche qui bisogna prepararsi adeguatamente prima di dare una risposta e anche domande relative al supporto familiare. Quindi domande quanto la tua famiglia ti supporta, quanto alla tua famiglia piace il lavoro che hai scelto. Allora le domande che ci sono nel questionario in linea generale sono queste, naturalmente non sono così fisse nel senso che il questionario le aree vengono indagate in maniera un po' fluida quindi non c'è un'area e ci sono tutte le domande un po' come il Minnesota no? Gli item sono sono mischiati. Quindi come si compone la sua famiglia d'origine? Qui solitamente c'è uno schemino dove voi dovete inserire mamma, papà, fratello, sorella, dovete inserire l'età, dovete inserire la professione. Quindi è importante andare ad inserire queste queste informazioni. Poi c'è la domanda relativa al luogo in cui ha vissuto stabilmente, in quali periodi della sua vita, ok? Quindi qual è la diciamo la città o il luogo in cui risiedete, ok? In quali periodi della sua vita, perché ci sono appunto persone che magari hanno affrontato dei cambi di sede, dei trasferimenti e quindi è utile no? Definire anche quelli. L'importante è proprio questo, racconti un evento significativo della sua storia personale e familiare. Quindi qui si può scegliere in realtà se parlare di un evento solo personale ma che comunque influisce anche sulla famiglia o su un evento familiare che influisce sulla su di me. Ok? Quindi ne avevamo già parlato tempo fa no? Di questa domanda perché è importante perché una domanda fatta così a brucia pelo può mettervi in difficoltà. Invece se già ci riflettete sopra, ci ragionate, mettete una risposta che potete appunto scrivere durante il questionario vi facilita. Attenzione significativo. Significativo significa che non deve essere per forza negativo o positivo ma deve portare ad un cambiamento. Quindi significativo perché dopo quell'evento io non sono stato più la stessa persona di prima. Portato a questo cambiamento, a questa crescita, a questo sviluppo. L'ultima è alla sua famiglia piace il lavoro che ha scelto? Come la sostiene concretamente? E lui da questa domanda era no? Un po' spiazzato perché cosa vuol dire concretamente? Quindi cosa fa la tua famiglia? Ti confronti, comunichi, ok? Ti dà dei consigli su come affrontare non so il concorso? Quindi queste sono le quattro domande. Qualcuno ha delle dei dubbi su queste domande? Vuole chiedere qualcosa? Allora no, in questo senso è moralmente. Cioè cosa fa per sostenerti nella scelta del percorso? Quindi nel lavoro che vorresti fare? Quindi ad esempio forze armate, no? Entrare nelle forze armate come ti sostiene? Concretamente vuol dire anche con la vicinanza, con il fatto che io posso avere confronto anche comunicativo con la mia famiglia, ok? Ma si deve fare un esempio quando si scrive questa risposta? Io consiglio sempre in quasi tutte le domande che vi fanno di fare degli esempi concreti poi, no? Invece sulla domanda numero tre sono rimasto io un pochettino... Invece sulla domanda numero due si intende dove ho vissuto stabilmente più tempo oppure dove adesso abito? Perché io per esempio mi sono trasferito da circa tre quattro mesi in un'altra città dopo circa dieci anni che abitavo in un unico posto. Se vuoi parlare di... Ok andiamo avanti. Allora perché l'area familiare? Allora qui vi ho messo giusto una definizione no di quello che è la famiglia perché la famiglia viene sondata proprio perché nella famiglia che è un'organizzazione complessa si intersecano storie individuali, esperienze condivise, relazioni e legami intergenerazionali. Molti di voi ci dicono no ma io i genitori divorziati non voglio dirlo al colloquio ma come si fa a non dire un evento così significativo? Che comunque incide sulla mia crescita? Bisogna acquisirle consapevolezza rispetto a quell'evento e dirlo in un certo modo. Cioè molti ragazzi al colloquio non vogliono raccontare gli eventi negativi della famiglia ma non è quello nessuna famiglia è la famiglia del mulino bianco ok? Non esiste famiglia perfetta. Il problema qual è? Il problema è come voi vi siete adattati al cambiamento, come vi siete adattati alla situazione nuova che ha messo magari in crisi la vecchia modalità di funzionamento. Quindi parte tutto dal voi. Io come sento quell'evento su di me? Come mi ha cambiato? cosa mi ha mi ha portato quell'evento? Poi attenzione perché quando nel Minnesota c'è scritto sono stato di tutto libero dal controllo familiare c'è scritto sono stato di tutto libero dal controllo familiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.